Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Vi avevo promesso sul mio Instagram, soprattutto in qualche Instagram Stories, che vi avrei rifatto il look, il trucco, che avevo quel giorno fatidico che ve l'avete visto, utilizzando la palette che sto utilizzando da quando ho comprato tutti i giorni, tutti, tutti, tutti i giorni. Ed è la Covershot nel colore Golden Hour di Smashbox. Sto usando solo questa perché è piccola, è pratica, l'ho infilata lì nella pochette della Makeup Bag, e quindi tutti i giorni ce l'ho sotto mano e vuoi o non vuoi, la uso. Due, sto facendo un sacco di trucchi, sto truccando lì più gli occhi rispetto al mio solito, che sapete, sono mascara, perché appunto ce l'ho lì, quindi mi viene voglia. In più i colori mi piacciono tutti, perché sono tutti, tutti, tutti bellissimi. E perché in questo periodo mi va. Basta. Vi avevo anticipato che non è ovviamente un trucco difficilissimo da realizzare, ma è lavorato di tutti, è calibrato appunto per chi la mattina non ha tempo, per chi fa una vita normale, quindi ha i minuti contati prima di uscire di casa e non fare tardi dove deve andare, al lavoro o a fare qualsiasi altra cosa. Sono due colori che ho mixato insieme, una sorta di smoky, non smoky, perché poi in realtà se andiamo a vedere non c'è una vera e propria tecnica, ma il risultato finale mi piace molto, mi dura bene tutto il giorno, è d'effetto, pur essendo semplice da rifare. E quindi niente, vi lascio al video. Oh, sembra che c'ho tipo i ventilatori, in realtà ho la finestra aperta, e quindi mi si muoveranno i capelli, ho i capelli che si muovono. Vi lascio al video. Ho schippato la parte della base, ve la faccio vedere, vi faccio vedere i prodotti che uso, ma non ve ne parlo perché alla fine il procedimento è sempre quello. Ho incluso nella base le sopracciglia che per me sono base, non sono make-up occhi, sono base, perché io posso uscire senza mascara ma senza sopracciglia, no? e vi faccio vedere poi il trucco occhi, lo facciamo insieme. Vi lascio al video, ciao! 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 Arriviamo adesso al trucco occhi. Ecco, il protagonista del trucco occhi e dei trucchi occhi che faccio tutti i giorni è la paletta di Smashbox. Queste sono le cover shot, sono le palettine quelle piccoline, sottilissime, con 6 cialde piccoline e 2 un po' più grandi. Ci sono varie... C'è un vario range di colori, quindi ci sono varie combinazioni di colori in cui è presente questa palette. Le trovate sul sito di Smashbox oppure io l'ho acquistata da Limoni o so che Smashbox c'è anche dalla Gardenia e costano 28 euro. Sono molto handy, molto maneggevoli, sono piccoline, stanno dentro perfettamente nella pochette, sono ottime per i viaggi e hanno delle combinazioni colori bellissime. Soprattutto la polvere è molto buona, con un buon primer occhi, io come avete visto ho utilizzato quello di NARS, il Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base, che è il mio primer occhi. Dura il trucco tutto il giorno, supera le 10 ore senza problemi. Io mi trucco la mattina, poi se devo uscire la sera, se ce n'è bisogno mi ritucco il trucco occhi, ma con questa no. E io riesco a fare dai trucchi, dai look un po' più naturali a quelli un po' più smoky. Comunque la mia, non ve l'ho ancora detto, scusate, la combinazione di colori che ho io è la Golden Hour. Appunto ci sono 6 cialdine piccole e 2 cialdine opacche, più grandi. Quindi queste due sono opacche, queste altre sono tutti dei satinati. Il payoff è molto buono, gli swatch ve li lascio da qualche parte, comunque sono molto molto pigmentati. Ce n'è un'altra che ho puntato, che quando sono andata a comprare questa non l'avevo visto, ed è quella con i rossi, un po' ruggine, adesso mi sfugge il nome. Comunque sicuramente andrò a comprarne un'altra, perché adesso per partire per le vacanze, quando vai via il weekend, sono comode da portare. In più hanno anche un bello specchio, quindi quando viaggiate potete usare questo come specchio per truccarvi. Comunque, arriviamo al look che vi era piaciuto tantissimo su Instagram, soprattutto nelle Instagram stories. E quindi, quel giorno io ho utilizzato due colori. Il chiaro opaco e questo colore qui, che è un viola, che in realtà il viola non lo utilizzo quasi mai, che si chiama Rock Stars. Sì, Rock Stars. Credo che sia giusto, perché a vederla così... Sì, Rock Stars. Dovrebbe essere questo. Comunque, appunto, un viola, bello pigmentato, molto satinato. Più che un viola, un prugna. Comunque, un altro colore che uso tantissimo è quello a fianco, che si chiama Psyched. Psyched, sì. Che infatti ha già il bocchetto. Allora, cosa faccio io? Uso due pennelli, solo due pennelli, perché alla fine mi bastano... no, tre pennelli, un blender pulito, un pennello d'applicazione e uno per il chiaro. Parto dal chiaro. Lo prendo con uno di questi pennelli fluffy, un po' da sfumatura, ma comunque piccolini. Il chiaro lo metto sotto l'arcata sopraccigliare, proprio come punto luce. e lo metto varie volte, perché comunque è un colore chiaro molto opaco, però molto simile al mio colorino. Quindi, sì, si vede che è luminoso, che comunque la parte è più chiara, quindi fa questa sorta di highlighting, però in realtà è molto simile al mio colore, quindi lo strutturo un pochino in modo da vederlo un po' di più. Forse fra i colori che mi piacciono meno, in qualità proprio di payoff, ci sono proprio i due opachi. I due opachi sono... Il burro lo uso, ma l'altro no. Sarebbe un colore perfetto da usare come transizione. Un altro accorgimento che ho notato utilizzando questa palette è di prendere poco prodotto alla volta, perché comunque sono un pochino polverosi. Quindi strutturate pian piano. Io sto mettendo il chiaro anche all'interno dell'occhio, proprio come punto luce. e uso questi due colori, quindi un burro opaco e un colore invece satinato, che darà poi il tutto... il fulcro, diciamo, del make-up, è proprio il colore prugna. Che vado a prendere con un pennello di questi. Questo è un pennello d'applicazione, il pennello di Pupa, il Professional Brush. Ice, però non dice né numero né niente. Lo prendo, scuotete bene, perché appunto può succedere, soprattutto se fate la base prima, come faccio io, perché non è detto che poi mi riesca a truccare gli occhi. Quindi se sono in ritardo, preferisco avere la base almeno fatta e poi rinunciare al trucco occhi la mattina. Però appunto se avete la base già fatta, state attenti, quindi scuotete bene e rimuovete tutti gli eccessi di polvere che cadono. E io vado a pressarlo, lo applico proprio pressandolo, diciamo, da metà occhio, i due terzi finali dell'occhio. Ok, avvicinato un pochino di più, vediamo anche se si veda, ma sono un po' in vinico sul letto. Quindi vado a perchéttarlo pressandolo, dove voglio che ci sia appunto più colore. E quello che resta lo porto in su. Vedete, lo sapete che io non faccio mai niente di difficile. Lo lascio così, prendo il pennello da sfumatura, in questo caso un pennello così, quindi un fluffy, questo è di Kiko, però per qualsiasi pennello da sfumatura va bene, inizio a sfumare nella piega il colore. Nella piega e all'esterno. vado un pochino più ampia rispetto ai trucchi che faccio di solito, perché quando creo questa sorta di smokey, ma in realtà non è uno smokey, lo sfumo, sfumo tanto. riprendo il colore e lo vado a ripressare in modo da avere appunto la parte qui, i due terzi della palpebra fissa, mobile, fissa, mobile, mobile, più pigmentati. continuo a sfumare. Io poi quello che faccio di solito è quando mi accorgo magari di aver esagerato un pochino, vado col dito, non rimuovi tutto, ma comunque sistema, un po' un suggerimento un po' casereccio, lo so però, funziona. Rimetto il bianco, e ripicchietto il colore. Lo vado ad applicare anche nella rima inferiore. E quindi cosa faccio? Prendo un pennello a punta, perché in realtà lo potrei fare anche con questo, questo è un pennello doppio di... c'era dentro una... ah sì, era dentro la palette Vice di Urban Decay, quindi vabbè, lo prendo con questo, vado di punta, scuoto, e vado a sporcare la rima ciliare, l'infero ciliare inferiore, in modo da congiungere un po' la fine dell'occhio con la sfumatura che ho fatto, così. Riprendo un po' del bianco, e vado a rimetterlo sotto la sopracciglia. Finisco quest'occhio, poi quest'altro lo vedete velocizzato a modo di repeat, di... ricapitoliamo. Piego le ciglia, a volte metto la matita, a volte no, oggi no, quindi piego le ciglia, oggi no, perché in realtà con la matita nera, semplice, dentro l'occhio o anche sulla palpebra superiore, in modo di eyeliner sfumato, mi piace molto di più, solo che se metto la matita dentro l'occhio, oggi lacrimo come se non ci fossero domani, perché come lo so, questa allergia, questi pollini, e quindi, ok, il trucco occhi, ma evito la matita, appunto per non lacrimare, non piangere. Mascara, Better Than Sex, che mi sta piacendo, e alla fine acquisterò, ancora non so se è questo, o la versione waterproof, vediamo, vi farò sapere, metto tanto, 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 tanto mascara, in realtà voglio provare la versione waterproof, perché dato che questo appunto, a me fa quel difetto, che dopo un po' di ore, a fine giornata, come se sulle punte, non ci fosse più mascara, forse il waterproof, resiste un po' di più, non lo so, però ci voglio provare, perché l'effetto mi piace, ho messo il mascara, anche sulle ciglia inferiori, facciamo un altro insieme, velocizzato, a tutti, youtube, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.